non pensavo che l'autista potesse scaricarci senza avvisare non si renderà conto sarà sotto shock ma una responsabilità siamo i suoi passeggeri non può andarsene per caso la conosci l'etalope no beh non mi sembra dovreste conoscerla invece e perché dovrebbe interessarmi seriamente è una città ricca di storia molto affascinante dimmi come mai sei così esperto si dà il caso che sia un docente io leggo libri non come voi due ehi einstein tutta la cultura che mi serve è in questo smartphone beh non è poi così smart senza segnale sono felice di vedervi finalmente è andato tutto bene certo il panorama ci ha distratti ve la siete presa con tutta la calma del mondo ero preoccupata lo immagino il cancello è chiuso qui non si passa cerchiamo in giro ci serve qualcosa per forzare il cancello dici che può andare pronto io spingo da questa parte 3 2 1 vai sì è proprio così che si fa bel lavoro ragazzi qual è il piano? andiamo in città e cerchiamo aiuto sai se c'è una città? siamo vicini a l'etalope sembra proprio un bel posticino curiosamente l'etalope ha un passato oscuro e affascinante possiamo andare o dobbiamo prima assorbirci la lezione? il tuo atteggiamento inizia a infastidirmi finora mi sono trattenuta posso fare peggio? sei più gentile non costa nulla interessante detto da chi continua a sparlare di taylor che cosa hai detto di me? ti fai difendere dal tuo fidanzato? dovresti imparare a farlo da sola cara ma scherzi non è il mio fidanzato cosa le hai raccontato? non le ho detto niente tu non ti immischiare, chiaro? stiamo solo sprecando tempo possiamo muoverci per favore? secondo te è una buona idea andare in città? io penso di sì prima ero d'accordo ma adesso ho dei dubbi quindi che vuoi fare? che ne dici se torniamo insieme al Pullman? la penso come il professore la cosa migliore è andare in città e cercare aiuto tu invece? torni al Pullman con me? secondo me se andiamo in città sarà più facile che troviamo aiuto bene avanti taylor non ti isolare non penso che sia una buona idea andarsene in giro da soli dai vieni con noi non vi preoccupate per me fermerò la prima auto che incontro e tornerò a prendervi vieni con noi ma figurati non ci penso nemmeno a seguirvi ma come? ma io mi sono allontanata quindi ti sei già pentita di andare da sola perché sei tornata? non capisco questo non ha nessun senso persa nel suo mondo personale non capisco cosa ti prende vai o rimani ehi che cosa fai? taylor attenta ma cosa? ma che cosa hai? perché torni indietro? non torno indietro vado nella direzione opposta è come come se fosse impossibile allontanarsi va bene facciamo una prova andiamo tutti insieme siamo arrivati da quella parte e da quella parte dovremmo tornare cerchiamo di rimanere il più possibile vicini nessuno si allontani procediamo in fila indiana? ok ok arrivo devo ammettere che è strano in effetti più che strano non è possibile ho cercato di spiegarvelo siamo in trappola siamo bloccati e ora che si fa? stiamo calmi per favore sicuramente c'è una spiegazione razionale forse siamo morti nell'incidente già teoria interessante ma nessuno qui è morto ve l'assicuro sapevo che sei un esperto di scrittura creativa non di metafisica lo so io chi vorrei morto la colpa è solo tua della tua gita del cazzo e ora siamo bloccati a Little Hope stai veramente esagerando non potevo sapere che avremmo avuto un incidente non puoi darmi la colpa non dire cazzate vacci piano con le parole sto facendo del mio meglio per capire proprio come te e come tutti gli altri se a qualcuno viene in mente un'idea migliore si faccia avanti forse non è reale andiamo via da qui ho bisogno di riflettere potremmo scendere la squadra di fumo ma che cazzo ma la smettete di parlare non è così che troveremo aiuto e neanche una via d'uscita ha ragione metterci a litigare non è di nessun aiuto collaboriamo come una squadra grazie ok usiamo la testa la nebbia si trova tra noi e il pullman però non c'è nebbia tra noi e la città perciò andiamo da quella parte non riesco a capire perché allontanarsi dal pullman non c'è niente sul pullman che possa esserci d'aiuto in città troveremo gente un telefono o qualcos'altro mi spiace ammetterlo ma ha ragione l'unica cosa è provare ad andare in quella maledetta città a me sta bene direi mi abbandoni e dove vai forza seguiamoli finché non capiremo rimaniamo uniti quando hai detto che potremmo essere morti pensi che sia possibile in tv spiegavano che il cervello continua a funzionare anche dopo sai la morte lascia stare sono teorie campate in aria questo posto non mi piace affatto avete visto anche voi che cos'era perlomeno c'è qualcuno in casa non sono sicura che sia una grande idea proviamo a entrare potrebbero avere un telefono vado dentro a dare un'occhiata ok veniamo anche noi senti perché non andiamo con loro per me hai qualcosa che non va hai detto che non stiamo insieme che che bella trovata davvero ma stai scherzando il nostro pullman è andato siamo persi nel nulla e tu ti preoccupi delle definizioni quindi fidanzato non è la definizione per me allora che cazzo sarei? le definizioni sono inutili dai e allora cosa siamo noi due? non lo so ancora non sono ancora pronta a ufficializzarlo ma presto sì promesso come posso farti capire che sono quello giusto? devo essere sicura di potermi fidare di te e che non mi abbandonerai dovremmo andare dagli altri restiamo qui tutta la notte o entriamo? e la come va? mi scusi stiamo cercando il nostro autista come? l'ha visto? sì divertente che cosa? ha visto la nebbia là fuori non è normale sì stasera è fitta altro che così fitta che noi siamo bloccati sì so cosa si prova perché? è bloccato anche lei scusi per averla disturbata davvero abbiamo appena avuto un incidente in Pullman qui vicino e siamo ancora un po' scossi siamo decisamente scossi infatti sembri confuso sono Vince c'è uno specchio? uno con meno di vent'anni di polvere addosso perché non ti bevi un bicchiere? meglio di no grazie devo restare lucido e qui si cambia idea? in effetti non mi farebbe male non mi sembra il caso di bere ora non è il momento migliore va tutto bene o solo questo ormai perché da queste parti? Little Hope non è più quella di un tempo che è successo qui? questo sembra un posto abbandonato Little Hope somiglia a una città fantasma e quella nebbia... la vita va avanti ma non tutti la seguono c'è un telefono qui dobbiamo avvertire qualcuno cercare aiuto c'è un telefono ma non funziona da anni forse c'è una linea attiva in città perché si comporta così? ha qualche rotella fuori posto è innocuo ha solo bevuto troppo diamo un'occhiata deve esserci qualcosa di utile qui in giro che cerca trova sta in un mondo tutto suo ehi un vecchio bersaglio ai tempi sapevo il fatto mio resta gioca pure io do un'occhiata in giro faccio giusto due tiri e poi pensiamo seriamente a come andarcene da qui prova con un doppio facile non sono nato ieri Daniel vado per il doppio venti ok sei il fatto tuo che classe vado per il triplo venti dopo questa serata è quasi un tiro da olimpiadi non c'è freccetti alle olimpiadi un vero colpo da campione hai fatto meglio di Taylor torniamo alla ragione per cui siamo qui cazzo ciao 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 Non posso crederci. Sì, sembrano quasi i nostri parenti. Questo posto ha una grande storia. E non sa dirci nient'altro su Little Hope. L'alcol mi ha dato la testa. Tutto bene? È solo un bicchiere di troppo. Non è proprio giornata. Posso dargli un consiglio? La smetta di bere. Senti da che pulpito. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ehi, di qua. Andiamo via e... Avete sentito? Sì, ho sentito qualcosa. Ha... sentito anche lei. Andiamo. Qualunque cosa fosse, proveniva da fuori. Sicuri che uscire da qui sia una buona idea? Non c'è niente di utile. È meglio proseguire. Buona fortuna. Spero che troverai quello che cerchi. Sembra arrivi dalla città. Sbaglio, quel vecchio ci ha chiusi fuori. Era strano il nonnetto. Sì, ha qualcosa che non va. Chi è che verrebbe in questo postaccio per fare il pieno? In che senso? Ho un cattivo presentimento. Ce la faremo. Questa nebbia è decisamente strana. Non è naturale. Mi spiacerebbe accelerare il passo. Ehi, puoi venire qui? Che c'è? Ho visto qualcuno nel bosco. Io non vedo nessuno. Ti dico che c'era qualcuno. Sono più che sicuro. Scusa, ma non ci credo. A nessuno verrebbe in mente di andarsene in giro a quest'ora. D'accordo. Sarà meglio raggiungere gli altri. Ehi, voi. Dobbiamo restare uniti. Che diamine. Hai sentito? Che accidenti è? D'accordo, va bene. Adesso ho paura. Chi sei? Chiunque tu sia non è divertente. John, dove sei? Daniel? Taylor? Dai, John, dove sei? Non sei divertente! Ehi, aspettateci! Che cos'è? Ehi, vieni qui a vedere. Che cosa accidenti sarebbe? Non saprei. Lasciami andare! Posso chiedere il vostro nome? Sono Andrew. Andrew? Invece voi, signora? Ma tu chi sei? Perché sei vestita così? Io mi chiamo Mary. L'ho fatta io con le mie mani. È uguale a quella che avete accanto. Vi andrebbe di giocare con me. Giochiamo. Giocati con me. Che stregoneria è mai questa, Mary? Non ho fatto nulla. Madera il tono. Ti conosco bene, signorina. Perderai la benevolenza del reverendo quando scoprirà la tua promiscuità col maligno. Ehi, torna indietro! Ci sono delle persone. Sono al falò. Che cosa? Ma non c'è nessun falò. Le ho viste anch'io. Vi sentite bene? Come hai fatto a non vederle? Non si vede niente attraverso questo impenetrabile fitto muro di nebbia. Su, digli... Cosa abbiamo visto? Una bambina. È sbucata dalla nebbia, poi così come è apparsa e scomparsa. Ma scherzi? Forse la nebbia potrebbe avervi confusi. Siamo sotto pressione. Ma quale pressione? Ho visto chiaramente una bambina ballare davanti a me. Ha detto di chiamarsi Mary. Era identica alla bambina del sogno, ma... Parlava in un modo strano. Non so neanche se fosse di qui. Anche a me i suoi modi parevano strani. In che cosa ci siamo cacciati? Questa Mary... voleva farti del male. Potrebbe essere ancora qui. Nella nebbia. Ma sei bollente. Che ti ha fatto la bambina? È meglio se teniamo d'occhio, Andrew. Sto bene. Il dolore sta passando. E ora? Possiamo soltanto dirigerci verso la città. Mi prendi in giro? Hai un'idea migliore? Certo che no. 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 Ah, bene. Questa situazione è precipitata in fretta. Nulla è nocivo a dosi moderate. Eppure... Ah. Ah, quanto possono essere ingenui questi mortali. Siamo abituati a rallegrarci con noi stessi al risveglio da un sogno tormentato. Forse accade lo stesso anche dopo la morte. Nei numerosi viaggi della mia vita sono stato testimone di molti eventi. Ho visto e sentito varie credenze e affermo senz'altro che vi era in ciascuna un po' di verità. Sembra che questa povera gente sia minacciata da forze del tutto inesplicabili. Come ombre che si agitano nel bosco, spiriti del passato e una bambina che è forse in pericolo. A meno che non sia lei il pericolo. Ma dove eravamo rimasti? Angela ha qualche difficoltà a convincere Taylor a confidarsi. Beh, evitiamo i pettegolezzi. E che dire di John? Sembra che incarni l'autorità. O magari rappresenta qualcos'altro. E poi c'è Andrew. Mi sembra leggermente confuso. potrebbe essere la botta in testa. Sono molto colpito. Sono state prese decisioni che si riveleranno preziose. Tuttavia altre potrebbero rivelarsi poco felici. Poi quell'uomo nel bar non è stato di grande aiuto. Anzi, parecchio scortese, devo dire. la sua mente è torbida o così pare. Bene. Letta l'opera chiude in sé qualcosa di misterioso e potrebbe celare dei pericoli. Ma è ora di andare. Forse la nebbia si disperderà. Bisogna trovare l'autista. Il modo di parlare di quella bambina era strano. Quasi incomprensibile. Da come si esprimeva non sembrava fosse di qui. Più che altro direi che sembrava venisse da un'altra epoca. Più che da un'altra zona. Non esagerare. senti. Sentito? Che cos'è? Deve essere un animale piccolo, notturno. Nulla di pericoloso. Me lo auguro proprio. Avete visto? Sarà un animale? Lo spero tanto, altrimenti... Da lassù si vedrà meglio. Come andiamo? Non lo so. Secondo te cos'è successo prima? Non trovo una spiegazione sensata. Non ha assolutamente senso. Cosa si nasconde lì? Troveremo una via d'uscita. Dobbiamo farlo. Lo spero anch'io. Grazie per l'interesse. Non lo so. Dove. Molto. Molto. Così? No! Così! Così? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci muoviamo? Sono d'accordo Guardate Ehi! Un attimo! Fermati! Si deve pur dire Questa è la classica scena di un film horror E ora che facciamo? Me ne occupo io Voi restate qui Aspetta, vengo con te Ehi, vuoi due? Questo non va affatto bene Ehi! C'è nessuno? Ehi, ma che cosa? John! Voi? Cosa cercate da me? Tu chi sei? Che ci fai qui? Sono tempi difficili Aspetta, dove vai? Indietro! Che diavolo sei? Cosa vuoi? Tu? Non è possibile Quale lingua oscura? Non cederò a tali sortilegi Signore, ti prego Liberami dalle visioni Tu chi sei? Non può essere reale Guardate altrove Non siete mio marito Dobbiamo entrare in città Ormai non ci manca molto E lì potremmo trovare qualche aiuto Voi state bene? Non andrò in quella città Dimenticata da Dio Né ora né mai Poco fa eri d'accordo Perché hai cambiato idea? Stai avendo una reazione esagerata Angela Coraggio Di qualcosa La donna è sboccata dal nulla Vestita come la comparsa di un film Ha farfugliato qualcosa Parlando in modo strano E quello che è peggio È che era la mia coppia sputata Come può essere possibile? Io me ne chiamo fuori La nebbia sembra non voglia che prendiamo strade Differenti da quella per la città Adesso è la nebbia che decide dove andiamo Vaffanculo Vaffanculo Io provo di qua Ehi non li guardate I film dell'orrore Mai mai dividersi Gli horror sono stupidi E io vado anche senza di te Forse dividersi non è una buona idea Taylor Io non intendo andare laggiù Andrò con John Ha ragione Andrew La città è vicina Andiamo tutti insieme Divisi avremo più possibilità Vado con Taylor È pericoloso lasciarti andare in giro sola In due gruppi sarà più facile trovare un modo Ed è questo quello che conta, giusto? Forse hai ragione Se la nebbia dovesse diradarsi E voi trovaste aiuto Mandate qualcuno in città A recuperarci A recuperarci